Musica Tutti ragazzi sono Corridan e ancora una volta ben ritrovati sul mio canale Vai Cry Aiuro Ciao Yu, cos'hai detto? Ho detto Aiuro Aiuro, comunque oggi è il secondo video del giorno Portiamo avanti la nostra serie di G-Mod Ed oggi tocca alla modalità Slender Comunque sono con Cry che vi ho già presentato Poi c'è Herzling che fa lo Slender C'è Alvia C'è Yuri Ciao a tutti Che fa il cacasotto, tra l'altro E poi c'è, lo devo dire, e poi c'è Lickflow Bella Vai, siamo tutti, io direi che Allora Herzling, la prima volta che lo fai? Sì, ma penso che... Oh Cry, qui c'è la pagina Dove sei? Nel camioncino Allora, il tuo scopo è quello di ucciderci tutti E non ci puoi apparire davanti quando proprio ci sei vicino, capito? Devi... Lo vedi tanto, in bassa a sinistra c'è scritto No one can't see you Ecco, no, ha già capito, ha già capito Vedo che c'è bisogno di spiegare Che serie? Ha già capito come funziona? E insomma, ci devi uccidere, dai lo scopo è quello lì Mi c***o si vede... No, la mia torcia Allora Io penso che nessuno... Perché ti c***o di me? Perché ti c***o addosso Vabbè, ma ne siamo... No, si aspetta... Accenditi Secondo me, ma ho trovato una pagina Mai nessuno l'ha trovata tutte e otto, eh È impossibile Allora, ma perché la mappa è gigantesca, quassi? No, single player, un amico mio era arrivato a sette Poi ha detto, boh, strano, secondo me non c'è lo slender Come si va a girare... Morto Era dietro e la mappa era a due metri E il foglio era a due metri, proprio Lo vedeva Va bene, slash, disinstalla Ma come? Sì, sì, a quel punto lì Non mi abbandonare, no C'è la cacozza, Yuri Se spetta la luce, mi sapeva che è tantosso Ma io l'ho perso, erano quel co... Hai battuto, ceva nulla, Stai Uniti, cioè Controllo, qua c'è una pagina Anzi, ci ammazza prima Dove? Qua La batteria si riempie Ma dove? Qua Chi è questo? So io, so io Qua c'è una pagina Dov'è la pagina, aspetta Mi sei spinta la luce, aspetta Ah, beh, eccola Io devo stare insieme a qualcuno, perché se no non le vedo le pagine Vai, andiamo ne... siamo interrato, vai Andiamo Andiamo Oh, mi sei spenta la luce Perché inizia... Treva tutto, cioè Grazie Lo vedo un cazzo, lo vedo un cazzo Vai, 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 Coni, perché io ho l'ultimo? Una pagina, una pagina Una pagina, una pagina Io sto ancora al camioncino iniziale, porca miseria Non ho fatto Oh, oh, occhio Occhio, lui è vicino Dai, siamo a tre Vai, 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 vai Occhio, occhio, occhio Andiamo giù No, no, no No L'hai già controllato Si cacattossa in una maniera, Yuri, assurda Vai Oh, cazzo Cos'era? Cos'era quest'urlo? Cos'era quest'urlo? Oh, what the fuck C'ho una paura, assurda Oddio Pagina Dove, 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 dove Aspetta Allora, scese le scale a sinistra E poi di nuovo a sinistra e vi vengo a prendere Io sono a sinistra, di nuovo a sinistra Vieni Ok Dai, dai, che arriviamo Grande E siamo a quattro E siamo a quattro, dai Siamo a metà, non ci sarà mai arrivata No, la luce, porca troia Eh, minchia, ora si può Tentrasportare Oh, cazzo Mi, Cori, mi hai fatto il mio colpo Cori, sai che succede? Quando... No, si aspetta la luce Non c'è pari lì Non c'è pari lì Non c'è pari lì Non c'è niente Non c'è niente Non cazzo Vai via Oddio, ragazzi, è qui Oddio, spingi Oddio Oddio Spingi, venite qui Piccoli Oh, chi è che è volante? No, è morto Vieni dalla mamma Vieni dalla mamma Oh, cazzo Cazzo, è lì, è lì, è lì, è lì Via, via Sei morto, Lore Cori, Cori Cori, mi sembra di aver capito Che quando vedi il sangue Su il muro, sugli alberi Perché c'è lo Slender vicino Invisibile Ah, sì? No, ma che... Cioè... Io sempre con la testa Incastonata nel soffitto No, 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 cazzo! Cioè, ora c'è anche il teleport Siamo fottuti Infatti, bisognava non prenderle Eh, capito Oddio, c'ho morto qui È il cadavere di... Oh, vabbè, cioè Mi hai rotto le palle, eh Tenetevi, Anna Io sono morto lì Vi vedo, vi vedo Trovate corpi Guardalo Eh, no! Aiuto! Aiuto! Tu non esisti! No, non esisti! Tu non esisti! Tu non esisti Sei solamente una finzione Faccio come su It Quello che recitava tutti i nomi Petti rosso Pappagallo Degli uccelli Che si tranquillizzavano Tu non esisti Guardalo come lo insegue Merda Chi è dietro? Eglielo, eglielo, eglielo È lui, è lui, è lui È lui Via, via Ma siete morti tutti? Sì Oh, porca troia Sono sotto No, no Pietà Con che tasto ti sei trasportato? Non ti hai trasportato Sono sempre stato dietro di voi Ah È perché ora ce l'ha il teleport Madonna mia Cioè, fai il bello Fa le entrate in scena tattiche, no? A Herzling Cioè, quasi da nulla Ti prego Ti prego Non le prendo più le pagine Ti giuro Non me ne prendo un cazzo Eh, vabbè La luce che se ne va Quindi alla prossima partita Mi porto un quaderno dietro le volte Infatti Ti prego Non lo fai Non lo fai Sto guardando la visuale di Corino Tanto lo so che è qui dietro Tanto lo so Eh, te l'ho detto Eh, no Non lo fai il culo Che poi Secondo me dentro a questo Lo frego Lo frego Nel sotterraneo è il posto più stronzo dove Dove entrare Perché No, è murato qui No, è murato No, è murato Oh, cazzo Ma facciamo un altro giro Direi che ci sta tutto Sì, sì Porca Amo questo gioco Cioè, ma è romurato Ora chi è? No No, è Cry Sì Oh, Yuri Eccoci Tutti insieme Allegra Che è sta donnina? Oh, ragazzi No, c'è la donnina di Chi è la donnina di Salta un po' Tomb Raider No, è Portal Portal 2 Adesso li facciamo cagare in mano Allora, andiamo a vedere subito qui nella casetta Se c'è qualcosa Aspetta C'è una pagina Pagina Sì Help me Ma aspetta Qua dentro c'era una pagina Non l'ho trovata mai Stavano sempre qua Eh, ma cambiano Non è sempre allo stesso punto Eh, se no era facile Vabbè, è facile insomma Vediamo qua sul camioncino Andiamo verso la luce Verso la luce E uno di voi fermo Sono io No, non dite chi sei Dite tutto io Sono io Sono io Sono io Stai morendo È come la pubblicità Ti ricordi? Di che è questo preservativo? È mio È mio È mio È mio Si blocca Slender Quando ti becca È morto No È già morto? È rimasto Perché è rimasto fermo Quando Slender Andiamo via Andiamo via ragazzi Via C'è il sangue qua C'è il sangue qua Qua Via 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 C'è il sangue sull'albero Via 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 di qua Di qua No Filospinato Recinzione Via 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 Penso che quando ci sia il sangue Stia vicino Perché prima ho visto il sangue sulla porta E ho detto Che cazzo è sto sangue Mi giro allo Slender Perché inizia a vedere male Dove sei persona brutta? Dove sei persona brutta? Persona brutta Però in giacca e cravatta Capito? Oh cazzo Via 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 Ragazzi Non vi disperdete Seguitemi Eh Siamo già per E Yuri è morto Vai Vai Cry Falli piangere Una pagina Tom Mortmore Caccia la miseria Dai Prima eravamo arrivati a 4 C'eravamo a metà della strada No La luce La via luce Guarda come si è perso Yuri Stai andando dalla parte opposta degli altri Comunque Giusto per dirte Ok E tu assolutamente non lo stai seguendo No no Altre mi si è spenta la luce Fermo Aspetta sto fermo Lore Sei davanti a me Fermati Vai Vai No no Un'altra volta la recensione qui Che palle È troppo facile con Yuri È diventato rossissimo No no Non vedo Non vedo punti di riferimento Allora Dove stiamo andando Guarda che bel punto di riferimento qua Ecco la modalità squalo ci vorrebbe per G-Mod Sarebbe bello eh Chissà che non ci sia Oddio 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 lo squalo è una sega Guardi comunque prima mi hai detto il frigo Ma che È dietro No l'abbiamo fatto il giro tutti intorno Eh lo so Ma le so accorta No porca Troè la luce La luce La luce Ma prego Dai è già un casino sto gioco Poi è il buio De Eh si è fatto il giro Lore Si Guida te stavolta vai È dietro è dietro Vattene Lore Vattene È dietro Corri anche alla cieca Ma corri A Yuri è morto No 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 non sono molto più forte No sono morto Cioè che palla Sono morto Non venire Cry No Siamo quelli di Beverly Hills Aspetta 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 stiamo facendo il video Oh Poi stiamo a far il video Sta giocando a Slender Minchia Dovete trovare altre pagine dai Ma che altre pagine Cioè Prima si sono trovato tutte insieme Stavolta mi so perso No 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 Buono buono Sono i container Io ce n'ho una E mi stai uccide Porca miseria Vai via Piangi piangi Yuri Non so da chi andare prima Adesso ogni volta che Corridan dice Pianzi piangi Mi manda 10 centesimi Sulla mia pipola Adesso lo metto Marco registrato Posso mettere In tutti i video Che dico L'ha inventato Oh oh È un'invenzione di ninja Tip di ninja esatto Guarda questo amorello Piangi piangi Ma siamo quelli di Beverly Hills Dai ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Io sto iniziando ad avere una conclusione Oh pagina 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 Seconda 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 E vai Cazzo ma siete Qual è il mio scopo Siete proprio ognuno Lontanissimo dall'altro Non so Ci siamo divisi bene Per fregarti Non mi sono mai mosso Questo posto L'avevo mai trovato L'abbiamo fatto solo per fregarti Ricordatelo Ho trovato una specie di Non so cosa è Sembrano spremi a grumi giganti Al centro della mappa Ah sì L'ho trovato Pure io Ma non so che cazzo è Uno spremi a grumi Ma è perché C'è una pagina Qua c'è una pagina ragazzi C'è lo slender che lo dici E' quando devi limare delle cose Limare eh Eh limi delle cose Lì però Quelli più Usano quelle più grosse Usano i limoni Ma che cazzo Che cazzo Cosa vuol dire Non è niente Bene muori No Non ho fatto niente È un casino Devi trovare la strada E seguirla Sare è possibile Mi fanno malissimo Gli addominali Quando vedo ste cose Mi cagato Questa porca puttana Dai prendete un po' Più di pagine Su Eh se no Non c'è il teleforte Eh maledetto Una pagina è qui Dai vi aiuto Ci aiuta lo slender No Ecco qua dove sta venendo Uno di voi C'è una pagina Eh no Io sto a tornare Al punto di partenza No qui 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 Dove vai Dove vai Non aiutano Fermatevi voi due C'è una pagina lì dentro Fermatevi Fermatevi tutti Raga Giuro Giuro C'è una pagina lì dentro Non mi voglio C'è Lo slender che aiuta È stupendo Mi piace troppo C'era una pagina Non sto scherzando Non li voglio uccidere Ma io l'ho già presa Là dentro c'è una pagina Eh ma io l'avevo già presa Allora deve prendere Yuri Voglio vedere com'è il teletrasporto Quindi non vi uccido Grazie Troppo buono Vabbè certo Guardiamo come è il strillo No no Veramente C'è una pagina lì dentro Qua a parte che c'è il cadavere Pagina Siamo a tre Dai se ne trovo un'altra Non c'è Sì è lì A sinistra Pirla Pirla è lo slender che parla È stupendo È bello Dai sto per trovare quattro io Vabbè tranquillo Contro il muro Il muro appena entri A sinistra Cavolo Qua? Sì Non c'è niente Cosa? Perché urla Ma è scemo Da solo Se tu non la vedi Hai già preso una pagina Qui dentro tu Mi sei apparto Vai via Cioè Yuri Vedendo scarafaggio urla No è vero comunque Ti allontani per favore Ti allontani per favore Ti allontani per favore Ti vedevo Ti vedevo Vai via Eh ma guarda che io Non ce l'attivo Si vede che se ti sto Troppo vicino Ti compaio comunque Oh pagina L'ho trovato io Vai di teleport Vai 4 su 8 Eh ma il tasto quale sarà? Eeeh L'altro tasto del mouse Il centrale? No no Sinistro o destro Un di due Il sinistro? Il sinistro Ah teleport To near be player Eh ma devi targhettare Devi essere vicino E targhettarlo Si Porca miseria ragazzi Mi prendo un colpo Ah ma tu sei di sotto Minchia Beh ho già capito tutto Eh Mi rompe la micchia eh Ma te da No mi si spetta anche la luce No cioè così non vale Cry te lo dico eh Mi si spetta anche la luce Cazzo Dove sono? Dove io essere? Ah ok Ma dove sta? Dalla fa tattica poi no? Cry? Si? Lasciami stare Mi dice sempre bloc Ah forse devo essere visibile No 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 Non lo fa fare Eh perché lo può fare solo in determinate situazioni Quando sei in un certo range Mi sa che qui dentro essendo tutto chiuso non mi posso Chi è? Fermo fermo Chi sei? Chi sei? Quante pagine hai? Dove vado? Non fiorire Non fiorire Eh c'è lo slender dietro di te No 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 Tu sei andato? Oh cazzo Quante pagine hai? Lasciamo stare Colidan Sperando che ne trovi anche No no vado via Io ne ho una Così viene da te Sì sì Senti urlare Yuri Vorrei avere la webcam di Yuri Io ti giuro Ma la cosa bella è che io Sono qui da te Non da lui Perciò urla da solo Ah urla da solo Mi si spegne la luce Penso che Che è lo slender No Oddio i container Oh cazzo Oh cazzo Cosa? Eh Non te lo dico Sennò te ne approfitti Ma questo è di nuovo Lorenzo? Aspetta che mi sta desincando Non so perché Sì lo slender desinca Lo slender desinca Sì Mannaggia Dai Aspetta che c'è la connessione Super power mega giga Ma vale io che c'ho C'era una pagina Dove ne contiene? Ah è vero comunque Ah ce l'ho detto Qui c'è una pagina comunque Eh lo slender che c'è Non ci guida ancora No dove hai visto me C'è veramente una pagina Mi sono tolto Girati Yuri Qua contro il container Porca miseria Dai via Ma scettate Non mi fate allontanare Ok mi sono allontanato Ancora chiuso Ti vai via? Ti vai via? Sono andato via Ti vai via? No a me dice che sei qua vicino Ti vai via? Guarda che non sono lì Ti fa così perché hai poca vita Non sono io Vabbè non compari comunque Non compari Sì c'è per favore slender Non comparire Sì Guardalo Sono sopra Ah ma ammazzali un pochino Ammazzali 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 tutti Qualcun altro ha preso Quattro pagine No nessuno Nessuno Sì sì Visioni Visioni Ti sbagli slender Arrivo arrivo Vai 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 da loro È scelta di idea Perché lui già sa cosa sta per succedere Capito Lui già sa E Yuri ci lascia Uh chiedi Chi è qui Ho trovato qualcuno Oh Oh madonna Lore allora guidami è lì e vabbè ciao no di qua no di quando ci sono ancora stata bellissimo e bella a me mi capita mai di farlo però io voglio farlo slender non lo faccio mai lo slender non so più dove andiamo non te vedo non te vedo non te vedo però non sei riuscito a portare a provare il teletrasporto mannaggia eh lo fa meglio forza all'esterno sta puttana starca troia ma lo slender può aprire le porte no 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 appunto è chiuso dentro allora chiudiamolo ma non credo che possa aprire le porte vabbè tanto c'è anche colinan chiuso dentro esatto vai chiuso con lui 8 pagine comunque a sinistra ora c'è una pagina dentro quel coso e vabbè e ciao di e ciao di resina ok è che posso aprire le porte fottuto ma le fa aprire e adesso ti ucciderò per questo no 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 tu non mi ucciderai io scavo ma mi sa che qui sotto non ce n'è più però pace ne me ne vado dove pensate di andare voi non uscirete più da qua però lo slender ci cuide la porta sta a vedere ci mura vivi porta rimuola la bisoniera è lì fuori li vedo i piedi puberta lo vedo anch'io lo vedo anch'io guarda dov'è guarda che è schifoso ti vedi i piedi chiude la porta e vabbè ciao cucù 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 allora ragazzi appena aprite la porta potete andare o a destra o a sinistra io sono in uno dei due lati vai allora allora il fia silista è destra va proviamo aspetta aspetta fammi venire il lippene cucù picchia lo slender che chiude la porta vai vai io a destra sì ci sei e vai eh non puoi devi andare a tempo guarda che schifoso che schifoso cittone lo hai fatto Arrabbiare lo Slender, eh, te lo dico Sì, ora sono arrabbiato, ragazzi Cioè, hai preso più il culo dello Slender, hai preso Puttanaccia, Eva Tanto lo sapevo che era lì Eh, vabbè, non c'ho praticamente più vita Ho usato il teleport, sì Eh, vabbè, eh, vabbè, ciao Porca troia Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS